Per la prima volta Chieti festeggerà il primo maggio, la festa dei lavoratori, con un concertone che vuole essere un riferimento per la regione e per l'intero centro Italia. Un lavoro sinergico di più assessorati per rilanciare il concerto del primo maggio che a Chieti non c'è mai stato. Ci candidiamo ad essere un riferimento per il centro Italia perché dopo Roma e Taranto saremo sicuramente una meta ambita per l'intrattenimento musicale e per quelli che saranno gli artisti che si esibiranno. Il nome più importante, lo annunciamo proprio oggi, è quello di Morgan con Andy dei Blu Vertigo. Il concertone si terrà a Chietiscalo, abbiamo deciso chiaramente che sia quella la location di riferimento come lo è stato in passato ma anche perché è l'area industriale, la forza motore del lavoro e ci sarà la vicinanza, il supporto, il patrocinio istituzionale delle tre sigle sindacali a livello regionale. Il concerto del primo maggio inaugurerà di fatto il cartellone del maggio teatino con una serie di eventi concertistici ancora da conoscere. Per l'undici intanto, il giorno della festa del patrono, si lavora a un grande evento in centro città per far tornare Chieti ad essere un punto di riferimento per la cultura.